È attiva da pochi giorni la cosiddetta pace fiscale varata dal governo. Le domande di adesione vanno presentate all'Agenzia delle Entrate entro il 30 di aprile. Sentiamo Lorenzo Maini. I moduli per aderire al condono voluto dal governo. Di certo le misure adottate sono molto diverse da quelle annunciate in campagna elettorale. Il gettito atteso è di 11 miliardi in 5 anni anziché i 35 immediati sbandierati prima del 4 marzo. Oltre all'azzeramento automatico delle pendenze sotto 1.000 euro risalenti a prima del 2010, la sanatoria prevede il cosiddetto saldo estralcio e la rottamazione TER. Il saldo estralcio delle cartelle è che interessa soltanto le persone fisiche che hanno un ISEE pari o inferiore ai 20.000 euro. Con questa possibilità i contribuenti che versano in questa situazione possono pagare in maniera ridotta tutte le cartelle relativamente a attributi IRPEF, IMSS e alcune tipologie di IVA. L'importo da pagare, spalmabile in 5 rate, varia tra il 16 e il 35% del dovuto in base all'ISEE familiare. Riguarda pendenze non pagate dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Diciamo che con questa prima norma, quella del saldo estralcio, si è voluto proibiliare anche tramite la scelta dei tributi da pagare chi comunque ha dichiarato ma per difficoltà economica non ha potuto versare. La domanda di adesione va presentata entro il 30 aprile all'Agenzia delle Entrate che dovrà esaminarla entro fine ottobre per consentire il versamento della prima rata in novembre. Altra misura, la rottamazione TER che non prevede sconti sul dovuto ma solo la possibilità di rateizzare i pagamenti in 5 anni. Le persone che non venissero considerate idonee al saldo estralcio automaticamente rientrano nella rottamazione TER. Per l'ottamazione TER invece si intende la possibilità data a tutti i contribuenti, quindi sia persone fisiche che aziende di pagare quelli che sono i carichi affidati al concessionario sempre dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 di fatto in 18 rate, quindi 5 anni. Escluse da questa sanatoria solo alcune tipologie di debiti fiscali che riguardano l'Unione Europea, a dogane e crediti da sanzioni tributarie.